E ragazzi, come va? Io sono FeriNiki E io sono Steffi, che si chiama Gmod E oggi siamo qui finalmente con le Detran Ovviamente in due non si potevano fare Quindi abbiamo chiesto a EspyJokey E il suo fedele alleato Luca Di farci compagnia in questa avventura Esattamente, come sempre il link in descrizione Del canale di EspyJokey E vi spieghiamo il volo a casa nelle Detran Praticamente come su GTA ci sono delle trappole Uno le dovrà attivare, in questo caso Luca E noi dovremo cercare di sopravvivere Per tutta la mappa La mappa è a tema Spongebob Quindi è davvero un qualcosa di straordinario E il video è davvero fantastico Luca è una trappola quella Si vede il suo braccio Allora, Espy, fai tu il primo tentativo Su, spreca la tua prima vita No, ho paura Dai, non tocca a te, vai Vai, Espy, forza Ok Ok Vai, coraggio Sì Ce l'ho fatta Ce l'hai fatta Ce l'ho fatta Ma che salto bellissimo però Andiamo, 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 andiamo Andiamo, andiamo, approfittiamole Vai, corri, corri, corri Uè, finta No, non ha funzionato Scusate, ci ho provato Ci casca le finte Guarda Vai, Fere Vai, Fere Facci vedere che sei coraggiosa Funziona se salgo sui cubi Non credo, Espy Non credo che sia una buona idea Correte Oh, mio Dio Se l'ho fatta Corri, corri, corri Ma sei stata bravissima Ma adesso E questa? Allora, secondo me Ci spara verso l'infinito? No, secondo me ne dobbiamo passare da qui E quando noi proviamo a passare ci investe Dici? Secondo me sì Ma si può salire anche qui sopra? C'è un grapipatti Dove? Espy? Oddio Espy Cosa è successo? Espy, sei morto Come sono? Espy Mi sa che mi sono appena perso una vita ragazzi Sono qui Una vita in meno ma sono qui Ok, ok Allora E quindi cos'era la trappola? Perché niente l'ho vista? Eh, non lo so Sono tipo esploso quando sono salito su questa cosa Voi potete passare però ora, tranquilli Ma non riesco a saltare Io non riesco a saltare Ho usato la fluttuazione divina Hai visto? Esatto È un talento naturale Sì, pure io Allora, conosci anche tu, Fere Sì, sì Pensavo fosse una mostra segreta No, non mi ha funzionato la tecnicia della covacciarsi Aspettate Quindi ho usato l'altro Allora È molto strana questa cosa Ho una domanda Che cos'è quella pozzangherina d'acqua? La vedete? Sì Non andate a guardare Aspetta, vado ad investigare un attimo Ci penso io Pozzanghera No, no, fa attenzione Aiuto Pozzanghera, cosa sei? Sta per morire Faccio finta No Ecco qua Volevo partire all'improvviso Ma che sensore? Raggi laser però Io scappo Io scappo Adesso ho forse una vita Ne ho solo due Arrivo Torno subito Eccomi Buongiorno Buongiorno Allora Siamo finiti Siamo nel ristorante Il discorso è Dov'è la trappola qua? Ah però vediamo Luca Guardate c'è Luca C'è Luca Dov'è? Oh lo vediamo Guarda lo sta scappando Sta scappando Guarda come scappa Sta cercando di nascondersi Allora la trappola quindi è a questa altezza Attento Espi Oddio 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 Stando per i tavoli Mi ha ucciso Ma scherzi Ha ucciso anche me Ho una sola vita rimanente ora No non hai capito che io Sono scappata fuori Mi ha preso un cavolino Anch'io In testa totalmente Ma no Bellissimo Se mi ha preso entrambi È stato bellissimo Sì Entrambi in testa Allora Ferinichi due vite Cioè io ho due vite Espi solo una Non mi sorprende che espi sia quello con meno vite Perché non ti sorprende? Che sta provando di più Perché ti va sempre male tutto dai Senza offesa Non dite queste cose Non sei un bell'atleta Comunque dovete passare il primo portale dimensionale Perché così Così andiamo alla seconda parte Oddio Oddio che è successo? Chi è che ha più vite? Aia Chi è che ha più vite? Non io Steph Io ho metà vita Non ne ho solo una metà Corri scogliattoline Corri No ho paura dai Mi uccide Noi abbiamo una vita soltanto Mi hai fregato prima Quindi devi andare tu Allora Allora Facciamo Che cos'era Quella cosa che è volata Mi hai ucciso Criminale Dai non conta questa Non conta È certo che non conta Disgraziata Ma non pensavo di ucciderti Cioè fai schifo con la vita Mi hai spaccato la faccia Dicevo Facciamo carta forbice e sasso No devi andare tu Smettila Facciamo carta forbice e sasso Ma io ho soltanto un piede di corpo Carta forbice Corri La capita solo Adesso come facciamo Non lo so Vi ho fregati Senti vai avanti così almeno distrai Distrai il polipone gigante Non posso Non posso Tra direi la fiducia di Luca Quindi resto qua Quindi Ve la dovete vedere voi Uno di due Perderà la propria vita No Sì Bravissimo Io sono rimasta indietro Quindi dovrei fare Ma sono delle alghe Cosa sono? Sì alghe Bellissime Io sto spettando che scompaiano E senza sporchi trucchetti Vero scogliattolino Guarda che non era un trucchetto sporco Ma ci sarò io Era geniale Guarda c'è Ferinichi in versione grande Che bello Non devi autopicchiare Per favore Non c'è bisogno Allora Allora Concentrati Secondo voi cosa succede? Ah probabilmente si chiudono le due porte Ci fanno tanta bua Certo 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 Carta forbice No finta Non ci casca più adesso Cioè inventati qualcos'altro Devo fare una nuova finta Allora faccio così No Non gli è piaciuta Dannazione Luca Dannazione Non voglio morire Io ho soltanto la vita però Allora Espy Non è che mi devi bulletizzare Perché sono morto meno di te Non funziona così il mondo L'attivata L'attivata Non ti devo più bulletizzare Non ti preoccupare Che cos'è? Sono fatta Non lo so Tipo acqua forse È un po' strana Un lipido che ti distruttisce Andiamo andiamo Corri 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 Corro Non è vero finta Oh no Non ci casca mai le mie finte Espy attento No No Fere Ci ho provato Fere Andiamo avanti Si è sacrificata per noi Adesso siamo solo io e te Espy Finalmente Vado da Luca e lo aiuto Allora Come lo aiuti? Cos'è questa cosa? No deve andare a noi Sì Grazie Bravissimi Oh e questa cos'è? Ah ok Sicuramente scompaiono Oddio attento 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 Che cos'ha? Ho visto Ho visto un uomo a polpo Che si agita A destra Guarda come si agita Allora sicuramente scompare l'hamburger Quando premerà il pulsante Quindi non so bene come fare C'è cascato? No No non c'è cascato Porca Mi sa che vuole far scomparire l'insalata che c'è dopo Uè 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 No No Dannazione Ho visto tutta la scena da dietro Io mi so che mi assergo Ma scompare anche l'hamburger o soltanto l'insalata? No tutto No non ve lo posso dire dai Scompare tutto Oh no Non vale Teoricamente possiamo andare no? Se ho già usato la trappola Mi ha fregato Allora Io penso che questo sia il miglior momento di cinema di sempre Allora Via Avevo due vite E adesso sono morto Aspettate che arrivo a vedere anche io la morte di Espy Sarà un momento bello Dov'è? No Dov'è Espy? Non lo so Non lo so Sta correndo dritto Sta cercando di finire il gioco Sta andando via Sì sta correndo dritto Ma devi smetterla Corri Che imbroglione Vai Sì Dov'è? Sotto Spongebob Dov'è? Sì 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 Ah Oh Sto girando Sto girando Ok 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 Ah È morto? Sì è caduto da solo Sono morto da solo Non servite Siete completamente inutili voi Perché noi non c'eravamo quindi Stai facendo tutto da solo Spiegami come hai fatto a morire da solo Allora questo segno serve a far vedere Dove siamo arrivati col primo round Quindi al secondo round dobbiamo cercare di arrivare almeno un po' più distanti di così Perché abbiamo fatto pena Mancava ancora tutta un'altra zona E Espy stava pure imbrogliando Quindi figuriamoci senza imbrogliare Non ho imbrogliato Era un imbroglio quello Sei corso dritto Sembravi Bolt Sembravi Si chiama corsa della morte questa Se non si corre cos'altro si deve fare Io mi rifiuto di rifare questa cosa Quindi Fede Hai tre vite Vai Sei anche piccolina Snella Fai salti migliori E sono caduta da sola Neanche li hai fatta attivare Sei totalmente inutile Ma come fai a saltare poi all'altra Salta malissimo È difficile infatti Non sono morto due volte a caso È difficile Ok adesso abbiamo tutti due vite Tutta una cosa alla pari L'hai già fatto Mi dovevate avvisare Guarda che poi è difficile saltare al secondo Mi sembrava ovvio Che ti dovessi concentrare un po' con i saltini Espy cosa facciamo Abbiamo un piano Ci buttiamo Aspettiamo che torni Ecco che torna Eccomi Eccomi Ok Allora Allora la prima è stata attivata giusto No Non ha attivato nulla Sei caduta da sola Quindi neanche li ha attivate Sì ma io Quando sono morto Ok vado io Mi sto girata Ho visto sparire Ok Ok L'hamburghane invece no Perfetto Perfetto Adesso è spia solo una vita E non abbiamo risolto nulla Perché Sì ma è possibile Manca l'insalata Sta trappola Fede vieni qua Vado Vieni vieni Attenta A non cadere di nuovo Salta troppo sto Sto personaggio Allora vai Dai tocca a te vai Ci ho provato a fare la finta Ok Io sono stai dietro Va bene Non mi giudicate Sì Ma no Dai adesso tocca a me Mi fa cadere di sotto Ce l'ho fatta Rimango a due vite Ce l'ho fatta Brava Brava Che sbalzo Corri 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 Ok sto arrivando Ok Corri Usiamo Allora Aspetta Ci siete incastrati Ci siete incastrati Usate un po' di fluttuazione Che conoscete voi No Aia Fatto Sistemato tutto Sistemati Mi avete ucciso Ma che sistemato Sistemato tutto Eliminare ferenichi E sistemare Pulisci un po' per terra Pulisci Doviamo eliminare le prove Vi odio Allora Qua c'è un muro Ok E a me non piacciono i muri Quindi non so bene come fare Aspettiamo ferenichi Ferre sei arrivata Oddio ci sono dei tentati rossi Ho fregato a Luca Aiuto No No Ma io pensavo che mi schiacciasse Invece mi ha bruciato viva A brustolità Non mi piace questo death Uffa Ferre E di altre vite Adesso ogni solo una Sì ma io ho detto Sono passati l'oro Le avrà già attivate Allora Facciamo i gentiluomini Espi No Espi Non andare vicino alla margheritina È una margheritina Credo che sia un po' pericolosa Non so cosa fa Ma che profuma Non credo Espi Se vuoi provare ad adorarla Fai pure Però ti ricordo No no Non mi fido troppo Che abbiamo poche vite qui Cos'è quella cosa? Cos'è quella cosa? Oh Sono passato Oh Cos'è successo? Vedo solo un muro Aggiornatemi Che succede? No Abbiamo perso Espi È stato ucciso Bye bye No Espi Torna da noi Guarda Luca lì in alto Si vede benissimo adesso Ciao Luca Posso venire? Hello Luca Anche Espi Che ci guarda dall'aldilà No è una griglia Che cos'è esattamente? Allora ci sono due puntini rossi Quindi sicuramente ci affettano quelli Secondo me ci cucina proprio Dici? Sì 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 Vogliono fare scogliattolo Arrosto Vai dai Vai cammina Non mi devi dare i colpi 35 di vita Lasciami in pace Allora Ascolta me Vado io? Ok Però la prossima vai tu Ok Ce la fai? Sì ci avrebbe fritto Aspetta volevo vedere l'effetto Sì ok Fucili? Sì esattamente credo delle AK per essere precisi Non credo che siano molto gentili con noi Li volevo distruggere ma non faccia Non credo che faccia Sono quattro Quindi con un salto ne superiamo tre È un bel problema Ma sei morta? No sono viva Non ho visto i proiettili io Da qua non si sono visti Nemmeno io Io li ho sentiti e sono morta Oh Che succede? Ragazzi sta sbuccando la mano Che succede? Fate scomparire la mano Ti sta salutando Steph No non voglio nessun saluto Allora Scusate buongiorno Allora Luca è qua Dovrebbe essere dei nostri ormai Sì ora arrivo Ti stai mimetizzando col pavimento Facci caso sei uguale identico Soprattutto con la testa Ebbè sono un polpo È normale Forse Ma sono rimasto da solo? Sì sì solo Ti sta carezzando Bello scogliattolino Bello scogliattolino Qualcuno venga a farmi compagnia Già qua è impossibile normalmente Figuriamoci se mi attivate la trap Facciamo che non la attivate va bene Ma non ci sono trappole Davvero? No No mi volete ingannare C'è una trappola per forza No non ce ne sono vai No mi state ingannando Senti quella lì È la voce di Luca che inganna Aspetta che fluttuo un po' Vedi che c'è No non c'è è vero Ok ok Allora Ragazzi questo è impossibile È impossibile quel pezzo Aspetta lo voglio provare No C'è una idea di quanto Pagano è brutta voglia Qualcuno mi ha spinto giù È un po' in bilico questo ponte Però dovrebbe andar bene Non è neanche un ponte Ma che incidenti Andiamo Andiamo a forza Guardate verso il basso Ce l'abbiamo fatta Andiamo Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Mancano tre trappole E abbiamo finito Che bello Allora Andiamo Vai Espy Sì Che coraggio Anche io Perché le mie trappole Non funzionano mai Ce l'ho fatta schivarlo Mio dio Io no Per fare nichi Ma ha preso te Esatto Esatto Non è giusto Arrivo Mi sa che ci fa la stampa Vero Non appena ci passiamo Sono le palettine Quelle per Per i cramipatti Ah Ok Secondo me ci schiacciano Non appena ci passiamo Io non riesco niente a salirci sopra Non è possibile Ma perché ho problemi a saltare Saltare e accovacciatevi L'ultima Che cos'è Suppongo di sì Esattamente cosa dovrebbe essere Una doccia Potrebbe essere una doccia Un idromassaggio Ferre dato che sei stata fortuna Quello è un pesce Che cos'è Forse Forse un pesce magico Ci serve per superare Aspetta te lo provo a prendere Ecco prendilo Ok 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 Noi lo lasciamo qua Mettilo lì dentro E' caduto E' caduto E' annegato E' annegato il pesce Il pesce non sapeva nuotare Ok Ok Non ho mai visto un pesce Che non sa nuotare Ma questo era così Sì Ma dai ma tutti ci riuscite Oggi dentro di me Sto pregando Perché sono già morto Due volte di fila Ferre stai acchiappando il pesce No volevo acchiappare a te E portarti all'altra parte Non mi puoi acchiappare Lo so ci ho provato Ferre vai tu Aspetta cosa sta arrivando Vai tu Una poltrona Uh bella Vai Ferre sali sulla poltrona Non ci posso salire Vai vai Perché mi devi far morire Sali sali Uh vabbè ho superato Oddio ce l'ha fatta Ho fatto un salto troppo lungo Allora Vai Questa cosa non va bene Perché lo so che adesso a me Luca mazzerai Sarò l'unico che muore Non mi sembra minimamente corretto Quindi adesso io vado indietro Me ne vado Non voglio finire la mappa Non stai neanche saltare con l'ostacolo Torna indietro No non la finisco Espi Perché mi avete lasciato solo Che non dobbiamo andare da soli allora Non avevo finta Oh mio dio Oh mio dio Uh Ah ok Facci male Avrebbe fatto prendere la scossa con l'acqua L'elettricità E quindi l'ho finito Allora tutti insieme qua Dai Andiamo Tre Due Uno Ok Allora ci sono dei giochi Siamo tutti Io perché mi incastro sempre con Espi Aspetta Ecco Proviamo Il tennis Non so cosa sia ma sembra divertente Guarda l'immaginetta è carina Andiamo 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 Non so cosa sia Che cos'è questo posto A che cosa servirà Che ci facciamo qui Luca Dacci qualche informazione Sopra di noi Sopra di noi Cosa sto cercando di dire Oddio C'è una bomba C'è una bomba Scappate 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 Dove possiamo fuggire Tutto chiuso Che bella fine E ti esplosia tutto Luca Perché l'hai fatto Ci hai ingannato Non fare Però si è sparito Dopo aversi ucciso Direi che ci possiamo fermare così Per questo video Speriamo che vi sia piaciuto E speriamo che vorrete vedere Altre Detran Quindi Sono super divertenti Tutto quello che volete Ovviamente non saranno solo A tema Spongebob Anzi Credo che sia l'unica esistente Però ci sono tantissime Detran Davvero davvero fantastiche Che meritano di essere giocate Quindi Sondaggino Commenti Likes Tutto per farci capire Se ne volete altre E ci fermiamo così Spera che se ne riesce così Settici un like E se è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare L'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao ciao Spera che c'è la prima volta che vedete il nostro video